Siamo qui alla fiera outdoor di Friedrichshafen dove presentiamo come gruppo Fenix le nuove collezioni per Spring Summer 2014. L'ultimo acquisto del gruppo Fenix è stato il marchio Branton, marchio americano storico nato già nel lontano 1894, ha una storia di 120 anni dove un ramo nuovo di questa azienda è l'energia portatile. Il futuro dell'automobile è già presente nell'outdoor grazie al marchio Branton. Sempre più persone utilizzano apparecchi elettronici tipo smartphone o camere. Branton ha sviluppato un piccolo mini reattore dove in questa pilla diciamo ci sono da 5 a 6 ricariche per lo smartphone. È idrogeno che è dentro questa pila inserendola in questo mini reattore. L'idrogeno quando va in contatto con l'ossigeno crea energia e qui abbiamo l'attacco per ricaricare lo smartphone fino a 5-6 volte. Una volta vuota questa pila si può semplicemente caricare con questa macchina qui dopo un'ora e mezza, due ore e di nuovo piena. Impatto ambientale close to zero.